Eccola qua, la nuova luce di Ponte Vecchio, mentre vengono esplosi anche i fuochi d'artificio qui sull'Arno, una serata magica. Stefano Ricci ha donato la nuova illuminazione di Ponte Vecchio, oltre 100 lampadine a led ed è stato Andrea Bocelli ad accendere l'interruttore dopo essere stato introdotto da Giancarlo Giannini che ha ricordato anche i suoi esordi da attore in teatro qui a Firenze. E poi la magia di Ponte Vecchio che sembra quasi un presepe sull'acqua, sul fiume Arno, davvero una illuminazione fantastica che rende magica questa notte, così come è stata goduta da tutti i fiorentini che si sono assepati sulle spallette dei ponti lungo l'Arno. Una serata, ha detto il sindaco Dario Nardella, che ha voluto rappresentare anche l'orgoglio di Firenze, chi illumina i monumenti ha detto illumina la storia e quindi appunto l'orgoglio di tutta Firenze. Grazie Firenze, bravi tutti quanti e viva Firenze, grazie. Grazie Che bravo Grazie